Dopo il mondo della scuola, ad Arezzo si ferma anche quello della giustizia. Questa mattina, infatti, per motivi di sicurezza sanitaria collegata all'emergenza coronavirus, è saltata la nuova udienza del processo per il crack di Banca Etruria, che vede seduti sul banco degli imputati 25 tra ex consiglieri ed ex dirigenti, chiamati a rispondere di bancarotta, fraudolenta o semplice. L'udienza è stata rimandata al prossimo 19 marzo, come disposto dal Collegio dei Giudici, su richiesta del PM, prendendo atto dell'eccessivo affollamento nell'aula giudiziaria tra avvocati e parti civili. Questa mattina sarebbe dovuta iniziare l'audizione degli imputati, era infatti previsto l'interrogatorio di Giorgio Natalino Guerrini, ex vicepresidente dell'Istituto di Credito. Uno stop che adesso, però, potrebbe non riguardare solamente il processo per il crack Etruria, ma anche tutti gli altri procedimenti. L'organismo congressuale forense ha infatti proclamato l'assenzione degli avvocati per il periodo di 15 giorni, dal 6 fino al prossimo 20 marzo, un'assenzione che si applica in ogni settore della giurisdizione e in tutta Italia. Nei giorni scorsi era già saltato un altro processo, quello relativo al Maxi Blitz al Parco del Colle del Pionta, in quel caso a causa dello stop alle traduzioni dei detenuti.